Giugno sa per iniziare cosa fare sui mercati ce lo dicono gli esperti di House of Trading. Ok allora io prima carta sarà contento l'amico Nicola Duranti perché mi gioco una carta rossa quindi la mia strategia di oggi è una strategia ribassista su un titolo che ha corso veramente tante che potrebbe andare in correzione. Ero indeciso se fare Netflix che vi spoiler è la carta che ho messo oppure Tesla che ha corso altrettanto bene appunto nell'ultimo periodo poi però visto che su Tesla nella mia storia di trader ho sempre preso stop loss quando sono andato short ho detto facciamo Netflix dove ha uno storico un po' più vincente quindi per cercare di recuperare qualche punto. Ti do i valori che ho inserito oppure se vuoi la commentiamo dal grafico? Entrambi le cose con il darci i livelli e poi la commentiamo anche da un punto di vista grafico nel frattempo vediamo quello che è il setup attuale. Esatto allora a livello di ingresso 395 stop loss 420 target price 370 ovviamente non l'ho messo troppo lontano perché qua i due Nicola ci stanno scappando e quindi dobbiamo cercare di andare a prendere dei target un po' più vicini detto questo diciamo la costruzione Devi fare come il para devi fare come il para shorty 396 target 395,80 stop 396,20 Esatto, però visto che abbiamo la possibilità di commentare il concetto di rendo è quello che il titolo ha avuto come vedi quella crescita importante una correzione devastante insomma del 70 per cento 80 per cento non so che sia poi adesso sta ricominciando a salire io non penso che questo sia un business difendibile cioè penso che nel giorno in cui youtube amazon o chi che sia decide di entrare in maniera pesante su questo settore già lo stanno facendo e sostanzialmente Netflix se la mangia cioè nel senso questo è un business che ha tantissime barriere all'ingresso tuttavia queste bandiere all'ingresso se tu sei ancora più grosso e quindi Amazon eccetera 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 ovviamente queste barriere all'ingresso non ce le hai questo per dire che cosa per dire che secondo me Netflix al momento ha delle valutazioni che sono troppo elevate quindi io non ci investirei anzi secondo me se ci dovesse essere una correzione delle borse questo è uno dei titoli che potrebbe essere maggiormente interessato perché potrebbe essere meno resiliente la faccio breve però una considerazione che secondo me non è banale William è interessante come prodotto Netflix più in generale secondo me vi è un'arena competitiva mica banale dietro a quello che è lo streaming no no infatti infatti e quindi non può andare a competere fa solo quello cioè Microsoft tu gli togli Azure non è che falliscono gli togli la parte di hardware non è che falliscono gli togli Bing cioè Microsoft fa tutto questi no questi fanno un business e tra l'altro in un'arena competitiva laddove i player sono ancora più grossi e possono fare ancora più investimenti e la valutazione che ha in borsa Netflix in termini proprio di market cap è assolutamente fuori da ogni buonsenso perché cioè Microsoft come detto fa tutto e come tutto intendo tutto e non mi sto a dilungare perché sennò poi mi prendo in giro e cioè non può valere poco di più tanto di più ma non così tanto di più insomma tanto per per chiarirci quindi secondo me è un business assolutamente da shortare per quella che è la mia vita. Ti è piaciuta questa strategia? Bene iscriviti al canale BNP Paribas attiva la campanella e rimani sempre aggiornato sulle operazioni proposte dei trader e degli analisti che vedete sfidarvi ogni settimana alle 17.30 a House of Trading